Meno male, stavo già pensando di andare a casa e non farmi vedere più, invece poi vedi che culo è insomma, no? Andiamo sull'emotività oggi, no? Ma d'altronde il calcio secondo me che che ne dica a due anni non è spettacolo, è emotività e oggi ce n'è stata tanta con il Gonzola, quindi così è, il calcio è emozione, è emotività, per cui oggi ce ne è stata tanta, appunto e basta, insomma, no? La partita, secondo me, abbiamo subito i primi dieci minuti del primo tempo e altrettanto nel secondo tempo. Il resto del primo tempo l'abbiamo fatto tutto noi e poi siamo stati dei polli ancora, prende gol sul calcio d'angolo, la marcatura è saltata, lì è la marcatura di un attaccante che sapevamo bellissimo che va a far gol sul primo palo, no? E quindi è saltata e quindi al 45 del primo tempo prendiamo gol dopo aver speso, secondo me, anche tanto. L'inizio del secondo tempo, loro hanno dimostrato di essere comunque la squadra tecnica e di personalità e ci hanno messo un pochino in difficoltà, hanno creato anche... Ok. Poi dopo, man mano, man mano, la partita si è rimessa un po' sui binari che volevamo noi, cercavamo di attaccare, ma non era facilissimo perché dovevamo anche cercare di concedere poco a loro e non è facile perché hanno giocatori come Perulli e Ok, che sono gli attaccanti che sono di qualità assoluta, no? E poi man mano, man mano, insomma, andando verso la fine della partita, soprattutto l'ultimo quarto d'ora, come sempre, insomma, una squadra come la nostra era sotto, cercava in ogni modo di andare vicino alla porta avversaria. Loro hanno rinunciato forse un po', ma forse anche per quantizzare quanto siano stati volutamente noi, loro, la parte di mettersi in difesa o invece un po' costretti anche da noi, è sempre complicato e difficile, un'operazione sempre complicata e difficile. Resta il fatto che per una volta ci è andata proprio di culo a noi, insomma, no? Facendo un gol del pareggio e poi anche quello lì, impensabile, neanche penso di... speriamo di sognarlo stanotte perché sarebbe un bel sogno, insomma. Di solito li faccio da incubo invece, speriamo così. Quindi questa è... Grazie. 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 Grazie.